Siamo dei servitori dello Stato che ogni giorno mettiamo a disposizione della cittadinanza, del popolo napoletano, tutte le nostre competenze per cercare di risolvere i loro problemi. C'è questa sinergia straordinaria tra la città di Napoli, l'amministrazione, il comando dei Vigili dei Fuoco e poi i Vigili dei Fuoco che sono un corpo che rappresentano anche la prevenzione, rappresentano anche un lavoro importante di quello che si deve fare per le nostre città, la diffusione dei corretti comportamenti e molto dipende dal nostro grado di collaborazione, di conoscenza del singolo cittadino di quelle che sono le misure di prevenzione e di come i comportamenti individuali possono aiutare tantissimo il lavoro di questi straordinari eroi quotidiani che sono i Vigili dei Fuoco. È una scelta straordinaria, non riesco a immaginare uno scenario più suggestivo e migliore di quello di Napoli per poter festeggiare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che insieme festeggiano appunto il 25esimo dei raduni nazionali. Il 25esimo raduno nazionale dei Vigili del Fuoco si svolgerà a Napoli. Dal 3 al 10 giugno un programma ricco di eventi nel quale si intende onorare anche i caduti del corpo. Cerimonie, sfilate e manifestazioni si alterneranno per una settimana, occupando la città con i simboli della prevenzione e della sicurezza. Tutte le città sono sicure e insicure allo stesso tempo. Dicevo il segno della percezione, se siamo come prima città d'Italia per crescita di presenze che è proveniente da altre parti, vuol dire che c'è anche il percepimento che venire a Napoli conviene. Nessuno si rega in un posto se presenta dei pericoli superiori alla media rispetto alle altre città e alle altre capitali. Se è così evidentemente perché c'è tanta gente che ogni giorno lavora per la sicurezza, per la prevenzione, per la difesa della nostra città. I Vigi del Fuoco, come noi, stanno in prima linea ogni giorno, con poche risorse umane, con poche risorse economiche, talvolta anche con mezzi non all'altezza delle sfide, eppure si mette in campo professionalità, si mette in campo coraggio, si mette in campo passione e amore. L'umanità che contraddistingue questo corpo, che sa stare molto tra il popolo, tra la gente, quindi la forza di Napoli deriva anche dal lavoro che tante donne e tanti uomini fanno ogni giorno per rendere la città sicura, attraente e percepita come una città in cui è sempre più piacevole recarsi.